Pronto dottore, il programma che parla della nostra salute. In questa puntata parleremo del melanoma della pelle, medical news, notizie per orientarsi nel mondo della sanità. I nei nascono sulla pelle quando particolari cellule epiteliali, i melanociti, si accumulano. Il loro cambiamento di colore è un campanello d'allarme per rivolgersi ad uno specialista. Ce ne parla il dottor Giuseppe Hutman. Il melanoma è il tumore più aggressivo della pelle e consiste nella trasformazione maligna dei melanociti, che sono delle cellule dell'epidermide che hanno il compito di produrre la melanina, che è un pigmento che dà il colore alla pelle e serve a proteggere da eventuali danni dalle radiazioni solari. È un tumore, come abbiamo detto, molto maligno, la cui incidenza è purtroppo in aumento e vengono diagnosticati circa 60 mila casi ogni anno, nuovi casi ogni anno in Europa, di cui circa 7 mila in Italia. Diciamo che dal punto di vista dell'incidenza colpisce leggermente, in leggera prevalenza, il sesso femminile, il rapporto di 7 a 6 tra femmine e maschi e l'età più colpite sono l'età adulta, diciamo dalla quarta, quinta e sesta decade. C'è una variazione di incidenza tra le regioni settentrionali e le regioni meridionali e ovviamente quindi l'incidenza cambia anche a livello della latitudine del fenotipo, più frequente al nord, sia in Italia che nelle regioni scandinave, rispetto alle regioni meridionali, sia italiane che dell'Europa meridionale. Nel sesso femminile sono più interessati dal melanoma gli arti, mentre nel maschio è più colpito il tronco, quindi dorso e torace. Il principale fattore di rischio per questo tumore è la eccessiva esposizione al sole. In particolare sono i raggi ultravioletti UVA e UVB che sono responsabili di eventuali danni al DNA delle cellule che possono poi trasformarsi in cellule maligne e dare origine al tumore. Abbiamo detto che la luce ultravioletta, quindi le radiazioni solari, ma anche le lampade abbronzanti sono considerate fattori di rischio, specialmente se i soggetti si sono sottoposti a intense abbronzature nei primi anni della loro vita. Altri fattori di rischio sono ovviamente una suscettività genetica o un fototipo molto chiaro, quindi occhi azzurri, occhi chiari, pelle chiara, lentiggini, avere avuto già un precedente melanoma o avere familiari di primo grado con un melanoma o avere molti nei o la presenza di nei atipici. Sono due i fattori importanti per la prevenzione del melanoma. Uno è evitare, come abbiamo detto, la eccessiva esposizione al sole o esporsi al sole applicando delle creme solari con fattori di protezione solare adeguata al proprio tipo di carnagione, applicarla frequentemente ogni ora, ora e mezzo e sempre dopo aver fatto il bagno. L'altro punto è fare un controllo dei propri nei, quindi individuare prestissimo le eventuali alterazioni dei propri nei con controlli frequenti e meglio se da uno specialista, tanto più se uno ha dei nei atipici. Il 30% dei melanomi insorge su un neo che si è trasformato, mentre il 70% insorge ex novo sulla pelle. Il campanello di allarme è quindi costituito dal cambiamento, dalla modificazione dell'aspetto di un neo o dalla comparsa di queste lesioni che hanno determinate caratteristiche che possono essere sinteticamente riassunte con la regola della BCDE. A sta per asimmetria, B sta per bordi irregolari, C per colore disomogeneo, D le dimensioni generalmente superiori ai 5-6 mm di diametro e per l'evoluzione, perché sono le lesioni che cambiano abbastanza rapidamente. Il melanoma viene classificato generalmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in 4 aspetti clinici differenti. Il più frequente è quello, il melanoma a diffusione superficiale e poi ci sono il melanoma nodulare che si presenta come un nodulo per cui oltre alle 5 regole che abbiamo detto, la BCDE, si aggiunge anche l'F per ferma, cioè la durezza del nodulo, la consistenza e G per la growth, per la crescita particolarmente rapida. Poi c'è il terzo tipo che è quello sull'entigo maligna, spesso che colpisce l'età più avanzata al volto e al collo e la varietà più rara, il melanoma acrale lentigginoso. Come si cura il melanoma? Allora, diciamo che la terapia è fondamentalmente chirurgica. Bisogna togliere il melanoma, bisogna asportare chirurgicamente la lesione e farla analizzare con un esame istologico. Se i margini della lesione non sono interessati da cellule neoplastiche, è sufficiente l'escissione. Se altrimenti i margini della lesione sono interessati dalla presenza di cellule tumorali, è necessario allargare ulteriormente la lesione. Ci sono casi in cui poi può essere indicato asportare il cosiddetto linfonodo sentinella, che se interessato dalla presenza di cellule tumorali necessita poi l'asportazione di tutti i linfonodi drenanti la zona. È chiaro che se poi il melanoma si è diffuso anche a altri organi e altri apparati, a questo punto la chirurgia non è più sufficiente, bisogna intervenire con l'immunoterapia o la chemioterapia. Il consiglio quindi è quello di esporsi con intelligenza al sole applicando regolarmente le creme solari e di fare da uno specialista i controlli periodici dei nei, tanto più se questi sono numerosi o particolarmente scuri e irregolari. Lo specialista può oltre all'esame clinico ricorrere a un particolare strumento che è il dermatoscopio che permette l'evidenziazione di elementi e lesioni che altrimenti a occhio nudo non si vedrebbero. È la tua vita non lasciarla sferire, è il moto della campagna di prevenzione oncologica gratuita che Fondazione Ant offre ogni anno ai cittadini. I progetti sono quelli di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammare, programmi che dal 2004 a oggi hanno raggiunto oltre 116.000 persone in tutta Italia. Da settembre i progetti di prevenzione Ant hanno un nuovo volto, quello dell'artista romana Laura Freddi, che ha prestato la propria immagine a titolo non oneroso per Fondazione Ant. Proprio quest'anno Fondazione Ant festeggia 20 anni della delegazione di Firenze. Solo nell'area di Firenze Prato Pistoia sono 320 i malati assistiti a domicilio da Fondazione Ant, grazie ad un vero e proprio ospedale domiciliare oncologico in servizio 365 giorni all'anno. Per richiedere l'assistenza Ant è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055 500 0 210. La delegazione Ant Firenze è attiva anche per tutti coloro che volessero svolgere attività di volontariato e di raccolta fondi e in quello delle attività svolte a sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. Per maggiori informazioni visitate il sito www.ant.it slash toscana. I rimedi naturali efficaci contro l'acne devono avere lo scopo di diminuire l'impurità della pelle, valutando che le cause dell'acne sono molteplici e svariati. Il rimedio dovrà essere mirato per quel determinato disturbo, per esempio i disordini epatointestinali possono riflettersi anche a livello cutaneo. L'acne potrebbe essere conseguenza di disordini ormonali, pubertà e mestruazioni. Anche le tensioni, le preoccupazioni, le ansie sono percepite a livello delle ghiandole surrenali che rispondono con un'iperproduzione di ormoni. Come rimedio naturale l'erborista può consigliare i principi attivi che agiscono come ansiolitici e calmanti del sistema nervoso centrale. Se l'acne è riflesso di un'allergia alimentare il rimedio più efficace è l'eliminazione dell'alimento della dieta. L'allergia scompare, l'acne scompare. Per sconfiggerlo quindi sono indispensabili alcuni piccoli accorgimenti. Osservare una dieta bilanciata, priva di eccessi, povera di cibi grassi e ricchi di zuccheri. Bere almeno due litri d'acqua al giorno. Evitare l'applicazione di creme cosmetiche irritanti. Evitare di scoppiare punti neri che possono infettare le cellule vicine. Non strofinare continuamente la zona intaccata dall'acne. In erboristeria si possono trovare vari preparati naturali, quali tisane e depuratrice, sciroppi, elisir, compressi oppure creme, pomate, gel, impacchi o maschere per un'applicazione locale. È sempre più decorata la pelle degli italiani. Secondo la prima fotografia scattata dall'Istituto Superiore di Sanità, in Italia a scrivere indelebilmente sulla propria pelle sono quasi 7 milioni di persone. Da dati emerge che i tatuaggi sono più diffusi tra le donne, il 14% in più rispetto agli uomini, ed il numero maggiore di tatuati riguarda la fascia d'età tra i 35 e i 44 anni. La maggior parte è soddisfatto del tatuaggio. Gli uomini preferiscono tatuarsi braccia, spalla e gambe, le donne soprattutto schiena, piedi e caviglie. Se la fascinazione del decoro della pelle è in crescita, è necessario perciò che lo sia anche l'informazione su questa pratica. Il tatuaggio è l'introduzione intradermica di pigmenti che entrano a contatto con il nostro organismo e con esso interagiscono. È fondamentale quindi rivolgersi a centri autorizzati e alle autorità locali, con tatuatori che rispettino quanto per iscritto dalle circolari del Ministero della Salute. E per questa settimana è tutto. Se volete rivedere le nostre puntate o volete interagire con noi, potete farlo attraverso la nostra pagina Facebook. E mi raccomando, mettete mi piace. Alla prossima. Grazie a tutti.